Il 27 settembre dello scorso anno la sede ISTAT dell'Abruzzo ha partecipato alla Notte Europea dei Ricercatori in due città simbolo della nostra regione, cioè Chieti e l'Aquila. È stata un'esperienza ricca di soddisfazioni, anche perché abbiamo avuto la possibilità di comunicare faccia a faccia con tantissime persone, dai bambini agli adolescenti, dagli adulti alle persone anziane. L'utilizzo di diversi strumenti come linfografiche, la gigantografia della piramide dell'età con la possibilità di colorare la casella di età e sesso, il contatore ISTAT dei nomi, i quiz sui fenomeni che riguardano il nostro paese, sono stati dei mezzi efficaci per conoscere meglio il dato statistico e imparare divertendosi. Molti bambini che non conoscevano l'ISTAT sono rimasti sorpresi e affascinati nel notare quali sono i dati interessanti che produciamo. E anche i più grandi hanno compreso maggiormente le nostre indagini e anche le novità sul censimento permanente della popolazione. Un piccolo contributo il nostro per affermare il ruolo dell'Istituto, la solidità della statistica ufficiale e l'importanza del dato statistico per comprendere la realtà e il futuro.